E' una situazione gravissima. Le Asla hanno richiesto 405.000 dosi, ne sono state consegnate soltanto 247.000, mancano all'appello 157.000 dosi e abbiamo accertato tramite questo accesso che le responsabilità sono tutte del Dipartimento alla Salute. Sono arrivati in ritardo per quanto riguarda la richiesta di approvvigionamento, cioè la determinazione del fabbisogno. Siamo arrivati in ritardo e ultimi rispetto alle altre regioni per quanto riguarda gli incrementi dovuti all'anno Covid. In tutta Italia ci sono stati incrementi in ragione ovviamente della pandemia e siamo peraltro arrivati in ritardo anche per ulteriori responsabilità. Pensate che di una parte dell'acquisito, che non arriva al totale, 34.000 sono ferme per mancato accertamento delle garanzie e dei criteri di sicurezza delle dosi vaccinali. Quindi sono ferme, non arriveranno mai. Un'altra parte, quasi altri 30.000 sono fermi perché il Dipartimento e l'Assessorato alla Sanità non hanno fatto le pratiche legate al trasporto. Una situazione gravissima che fa il paio con il racconto dell'esasperazione dei cittadini, delle famiglie, degli anziani e degli operatori sanitari che sono costretti a dire di no. Avremo una commissione di vigilanza dopo domani, subito dopo se non accerteremo lì in quella sede le responsabilità sui vaccini chiederemo una commissione d'inchiesta. Altro che chiacchiere e propaganda di Marsilio. E' molto grave il rischio concreto di non concludere la campagna della vaccinazione per l'influenza. C'è. C'è addetta proprio nell'accesso agli atti dalle stesse asle perché hanno detto dopo il 15 di dicembre sostanzialmente a noi non serve più. E poiché il fatto di arrivare al 15 di dicembre senza aver effettuato le vaccinazioni è un rischio molto alto, noi non possiamo che chiedere qualsiasi tipo di accertamento, non soltanto ovviamente le scuse e soprattutto un'inchiesta vera e propria per capire le responsabilità del perché in questa regione siamo ultimi in Italia per quanto riguarda i vaccini sull'influenza.